buongiorno amici nexus lab sono alessandro e oggi vi presento la nostra video prova di android 4.4.3 kitkat arrivato da pochi minuti tramite ota quindi non abbiamo dovuto neanche forzare l'aggiornamento è arrivato forse più velocemente rispetto alle altre volte quando attendevamo anche dai 3-4 giorni rispetto all'annuncio ufficiale questa volta ci è voluto un giorno scarso per l'arrivo dell'aggiornamento un giorno giorno e mezzo allora iniziamo subito con le novità novità che a livello utente non sono tantissime quindi vi diciamo già subito che non abbiamo tanto da farvi vedere partiamo subito col vedere comunque la versione di android versione di android 4.4.3 numero build ktu84m per il nexus 5 se forziamo il easter egg possiamo vedere android 4.4.3 visualizzato a schermo pieno allora la novità sicuramente la novità più grande che di cui si parla di più è il dialer dialer che cambia struttura sembra gmail in tutto e per tutto come possiamo vedere già da un rapido confronto con gmail la struttura a caselle colorate è molto molto simile come potete vedere abbiamo praticamente una struttura paritetica abbiamo quindi la gestione e l'immissione di diverse funzioni prima di tutto i contatti che non hanno un'immagine vengono visualizzati con la prima lettera dell'alfabeto la prima lettera del nome del contatto e poi ogni lettera ogni contatto prende il colore di una un colore specifico inoltre si aggiunge il menu della chiamata rapida come c'è scritto anche qua sotto tocca all'immagine per visualizzare tutti i numeri ottieni premuto per cambiare l'ordine come potete vedere possiamo immettere qua diversi numeri questi sono i numeri che chiamiamo di più e in automatico nella chiamata rapida troveremo quelli chiamati di più naturalmente possiamo anche selezionarli noi o andare a cercarli nella nostra rubrica rubrica che cambia anche questa in maniera evidente a livello di interfaccia lo stesso dialer inoltre passa dallo scuro dalla visione scura del dialer ha una visione molto più colorata fumettosa quasi per il resto poco altro cambia troviamo la cronologia delle perse e di tutte le chiamate possiamo cancellare il registro delle chiamate e poco altro se andiamo giù troviamo anche qua altre chiamate fatte da poco anche queste è possibile gestirle senza particolari problemi ricerca rapida anche nella barra soprostante ricerca anche vocale questa è una delle novità poi passiamo alle novità quelle più nascoste all'interno del sistema allora dovrebbero esserci delle novità per quanto riguarda la gestione della batteria adesso purtroppo sto provando da poco tempo il nuovo sistema però insieme alla runtime art e al a questo nuovo android 4.4.3 si dovrebbe avere una gestione della batteria migliore nel nexus 5 cambia in qualche modo anche la parte multimediale prima di tutto ho provato a fare un video con con l'app fotocamera e ho notato che la registrazione di un video non si sente più quella specie di tac che si sentiva quando l'audio è a zero proviamo adesso a fare una prova proprio in questo momento prova 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 video audio nexus lab prova ok proviamo adesso ad ascoltarlo usiamo il player di default prova 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 video audio nexus lab prova ok come potete avete potuto sentire non si sente più la differenza tra assenza di audio e audio quindi questo aspetto è stato migliorato inoltre leggermente più veloce l'ha messa a fuoco facciamo una foto normale leggermente più veloce cambiamo per esempio come potete vedere la messa a fuoco in questo caso automatica è piuttosto rapida un'inezia già prima non è che fosse lenta ma di qualche millisecondo la situazione è migliorata inoltre nel change log ufficiale viene riportato come l'ottimizzazione del reti LTE è stata migliorata anche in questo caso mentre adesso vogliamo vedere se i crash i crash scusate con noi utilizziamo art come runtime adesso passeremo ad art perché purtroppo ci ha fatto il cambio ripassando ad art vogliamo capire se i problemi sono inferiori rispetto al passato come detto art è ancora una runtime non definitiva che non viene neanche utilizzata da tutti ma con questo nuovo aggiornamento di Android potrebbe diventare praticamente lo standard noi dalle nostre prove abbiamo visto che con l'utilizzo di art in effetti si ha una ottimizzazione della batteria assolutamente ineccepibile ci sono delle cose che avremmo gradito a livello personale avrei gradito l'aggiunta appunto di una specie di feature per la gestione della batteria in emergenza cosa che molti produttori hanno utilizzato o impiegano nei loro dispositivi e poi avrei gradito magari una rivisitazione del menu un po' fino a se stessa un po' sempre uguale a questo punto mio di vista personale avrei gradito qualche novità a livello di gestione dei menu per il resto tutto funzionava benissimo quasi tutto funzionava benissimo con Android 4.4.2 speriamo che con Android 4.4.3 i problemi diminuiscano ancora di più un saluto da Alessandro per Nexus Love grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti